Ah, signor Presti, in due anni, dodici ne abbiamo consumati di quadri Questo è l'ultimo, basta E quello è lo stronzolo di Beccafico che fa gli esperimenti Beh, allarga, allarga Ma che allarga? Ma che hai capito? Ma io sto parlando del quadro, devi allargarlo perché... Beh, guardi che scostumate, che faccia di porta che c'è qua Uffa Ma che fa? Si sta spogliando Ah, ma è una fissazione tua, è sempre là a pezzi Eh, certo Dì, dammi una meno qua A pagina, tira Oh, vieni, mi fa male Eh, professore, chi bello vuoi fare, bene e guai adappa a te Ma come cazzo parli, io non ti capisco a te E per le date da patè, mo Professor, ma questa è una schifezza Eh, lo so Ma come vado poi a toglierla questa fedeltina? È un lavoro enorme, c'è sera mia Devo fare un'ispirazione tipo yoga, no? E poi Hai sentito? Ho sentito, ho sentito, ho sentito Hai sentito, l'ore, scocchetta? È una guerra di ceretti, italiani Ma vuoi finirsi o no che mi stai rompendo da troppo da ustecchio? L'ore, scocchetta, la cambera sta suonando Sta suonando la cambera Ma come cazzo parli? Ma io ci posso spessare la noce a capocolla a questa? È anziena? È pecchetto? Però la quinta verte per la spinata d'orcello ce la posso rompere